Il clou del pomeriggio, un miglio per quattro anni, non vincitori di 35.000 euro nella carriera. Ristanza quella del miglio, dieci concorrenti chiamati agli ordini dello starter. Continua a piovere sul Ciligliano, seppur non in modo incessante, ma comunque fastidioso. In prima fila Belvajet, Bullmail, Brian Thor, Baldwin, Baciata dai Fonte e Bizia di Casei. In seconda Bonito Fegg, Belmarino, Boato di Nobbi, Oban. Baciata dai Fonte, attaccata da Bizia di Casei, poi Baldwin. Bizia di Casei è brava e svelta a convergere in seconda posizione. Dietro Baciata dai Fonte, mentre a largo c'è Brio Banna. 15 scarsi in lancio. Baciata, Bizia di Casei. All'argo Brio Banna, 30 è il quarto iniziale, poi Baldwin che precede Belvajet. Il ritmo si mantiene sollecito, sul piede dell'1.15 anche scarso. 44.7.600 al passaggio davanti alle tribune. Brio Banna mette pressione a Baciata dai Fonte. Giro di pista completato in un minuto scarso. Baciata ha risposto ad un primo tentativo di Brio Banna. numero 2 in qualificato. Poi Bizia di Casei, Brian Thor. Chilometro in 1.15 secchi. Torna all'attacco Brio Banna. Baciata dai Fonte a corto di argomenti. All'altezza dei tre quarti di miglio, Brio Banna è passato di forza. Con una frazione in 14.4. Sopraggiunge Brian Thor. numero 4 squalificato. Baldwin squalificato. Ingresso in retta d'arrivo. Brio Banna ha dato il meglio. Viene affiancato e sopravanzato da Brian Thor. ma c'è lo scatto di Bonito Fegg che passa e chiude la partita. Bonito Fegg, Brian Thor e Bizia di Casei. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso. 1.14.2 per Bonito Fegg e Giuseppe Immobile in veste di allenatore e guidatore. il portacolori del signor Davide Olero. Media probabile di 1.14.2 per il vincitore. Delude gravemente la favorita baciata dai Fonte. Grazie. 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 Grazie.